Ecco, grazie, buonasera e benvenuti a tutti a questo momento finale di un anno trascorso insieme nel segno della musica, nel segno della socialità, nel segno dell'amicizia. Prima però di entrare nel vivo della serata, io voglio a nome dell'Accademia di Chitarra della Scuola Liuto ringraziare tutte le famiglie, le mamme, i papà, i nonni, i cugini, i parenti, gli zii, diciamolo, tutti coloro che sono stati complici di questo importante anno, perché voi, grazie al vostro impegno e ai vostri sacrifici, avete dato nutrimento a quella che è la passione dei vostri, dei nostri piccoli talenti. È stato un anno difficile anche questo, lo abbiamo visto tutti, però siamo qua, siamo ritornati con la voglia. Io se non sento silenzio mi fermo. Sentiamo da qua silenzio? Da qua? Stavo raccontando che i vostri genitori sono stati bravi perché hanno consentito che voi potevate suonare, siete contenti? Allora solo voi, solo i musicisti, lo facciamo un applauso per le famiglie, solo i musicisti, riuscite? Avete le chitarre? Vabbè, dai, dai. Vabbè, questo è l'applauso, è l'applauso di tutti i nostri piccoli grandi eroi e le famiglie, quindi grazie di cuore. Grazie di cuore naturalmente al presidente che è il maestro Francesco Luca Laganà che dopo l'esperienza straordinaria del 2019 ci riprova e ci riprova con la medesima passione, con il medesimo entusiasmo e ci riprova grazie a voi per una serata di esibizione dell'orchestra di chitarra, degli allievi di tutte le sue sedi perché è grande la famiglia della scuola di chitarra Liuto e siamo felici di poterne avere oggi una rappresentanza, qualcuno manca e li salutiamo. So che avete voglia di ascoltarli quindi andrò frettissima. Io vi dico subito l'esibizione di Arpaia Alessio, Squillace Lorenzo, D'Alessi Giacomo, Bianco Filippo, Esposito Matteo, noi li ascolteremo fra qualche istante e poi avremo l'allieva del conservatorio di Catanzaro Nocera, un ospite allieva del maestro Francesco Luca Laganà. Beh, io non voglio rubarvi troppo tempo, darei subito spazio al nostro primo artista ed in cui può accomodarsi. Ecco, sì, si comincia ad accomodare, eh sì, lo stavo presentando. Ecco l'applauso. Nel frattempo, nel frattempo è arrivato Don Domenico Gigione Stragnius, quindi prima di dare il via, se Don Domenico mi raggiunge così diamo anche da parte sua l'inizio e il benvenuto a questa serata nel segno della musica, della passione, della magia e grazie per l'ospitalità. Don Domenico Gigione Stragnius. Io non posso che dire grazie, quando Luca mi ha proposto questa serata ho detto subito di sì, ma perché abbiamo scelto questa serata del 24? Probabilmente a molti sfugge, perché questa settimana si sta vivendo la settimana conclusiva dell'anno dedicata alla famiglia e dove ci sono i bambini ci sono i genitori e dove ci sono i bambini ci sono anche i nonni, c'è la famiglia e domani qui in questa chiesa avremo famiglie da tutta la Calabria, verrà l'Arcivescovo di Crotone, Santa Severina e vivremo una giornata di riflessione. Da qui uscirà un decalogo che consegneremo al Santo Padre Francesco, un decalogo delle famiglie. Allora parlando proprio con la scuola Liuto, con i nostri maestri, poi oggi mi diceva Luca che anche Luigi Strangis è stato alunno di questa scuola. Dire Luigi Strangis in questo momento è dire l'orgoglio di un nostro concittadino, la mezza davvero ha tantissime risorse. Allora avevamo pensato proprio questo, di dedicare questa serata di famiglia, di famiglie, proprio in vista della giornata conclusiva dell'anno della famiglia che domani sarà vissuta a Roma dal Papa con i rappresentanti di tutte le famiglie del mondo, anche la Calabria ha una coppia che ci rappresenta. E noi però lo vivremo come Regione Calabria proprio qui. Quindi auguri, io non ho voluto assistere, lo sanno, alle prove perché mi sono voluto conservare la sorpresa per questa sera, ma so già che siete come bra? Come siete? Oh, sanno suonare ma non parlano. Siete bra? Bravissimi! Buona serata! Grazie, grazie a Don Domenico Cicione Strangis. E allora dove c'è musica c'è famiglia c'è Dio. Iniziamo, apre il concerto l'allievo del maestro Michele Francesco De Fazio, Alessio Arpaia con lo studio numero uno dell'Opera 60 di Matteo Carcassi. Prego. Grazie a Don Domenico Cicione Strangis. Grazie a Don Domenico Cicione. Ed ora si esibirà l'allievo del maestro Francesco Luca Laganà, Lorenzo Squillace, con Giochi Proibiti. Giochi Proibiti Grazie a Don Domenico Cicione Strangis. Grazie a Don Domenico Cicione E complimenti anche a Lorenzo Squillace. Io cammino qui perché ho visto un musicista davvero piccolino, mi sa che è più grande la chitarra. Scusa, io ti guardavo, no? Nel frattempo che si prepara il tuo... Posso? Ma mi dici quanti anni hai? Sei. Sei. Sei anni? Ma avete capito sei anni? Lo facciamo un applauso perché è proprio piccolo. Ma come ti chiami? Vito. Senti ma, questa passione per la chitarra, come mai non giochi a calcio e suoni la chitarra? O fai entrambe, non lo so. Mi è venuta quando il maestro Lagana è venuto a scuola. Quando è venuto a disturbarti a scuola? Ma sai che è stato un disturbo bello il suo? Quindi lo hai visto ed è nato quest'amore. Non per il maestro, per la chitarra. Sì. Va bene, allora poi dopo parliamo ancora. Nel frattempo presentiamo un altro tuo collega musicista, va bene? Con permesso. Ed ora si esibisce l'allievo del maestro Michele Francesco De Fazio, Giacomo D'Alessi con Romanza. 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 Sfiorano le corde della loro chitarra, ma questa poi è la magia della musica. Però dovete arrivare sorridenti, ogni tanto vi vedo un po' troppo spenti. Tu sei sempre con me? Sì, vabbè. E poi andiamo anche dalle donne. Ma non abbiamo salutato mamma, papà, tutto il pubblico. Aiutami dai, così nel frattempo diamo tempo a loro di prepararsi. Ok. Che classe fai? Puoi me a levantare. Ma sei stato promosso? Sì. Sì, beh, quindi è già una cosa importante. Quindi salutiamo tutte le maestre. Sì. Mi sai anche dire il nome della scuola? Attento, è una domandona questa. Non rispondere con fretta. Sì, dà. Vai, accendiamo, rispondi, così loro sono pronti, vai. Fiorentino Borrello. La Fiorentino Borrello, complimenti, bravo, bravo. Adesso si esibisce l'allievo del maestro Paolo Isabella, Filippo Bianco, con lo suo numero uno di Brower, seguito da Contra Danza. Prego. La Fiorentino Borrello. 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 Quindi sono anche loro emozionati come genitori artistici. Ecco che è pronto. Io ve lo comincio a presentare. È un altro allievo. Eh no, abbiamo perso il silenzio. Vediamo questa... Allora, questa ala va bene. Vediamo qua come rispondiamo. Perfetto, allora possiamo. Altro allievo del maestro Paolo Isabella, Matteo Esposito con il brano Lagrima. Lagrima. Grazie a tutti. 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 So che hai conquistato due importanti premi, ma li vuoi dire? Non ti sente nessuno? Allora, allora, ho partecipato a due concorsi e sono arrivata prima, quindi è una grande soddisfazione, 100 su 100. Va bene, adesso non ti, ma è una grande soddisfazione, ma è una grande soddisfazione, ma è una grande soddisfazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Signore e a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. 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 a tutti.